Un momento di confronto e collaborazione tra i principali attori istituzionali del territorio con l'obiettivo di analizzare e discutere del ruolo strategico e le funzioni della provincia di Teramo nei propri contesti d'azione. Sono stati questi gli obiettivi al centro del tavolo di raccordo interistituzionale sul ruolo e sulla funzione dell'ente organizzato dalla provincia di Teramo. Un incontro importante per aprire una discussione che guarda il passato, guarda la nascita delle province, ragiona su quello che è stata la riforma che dal 2014 ha tagliato delle funzioni e delle risorse della provincia e quindi quali saranno le prospettive per il futuro e quale sarà il ruolo della provincia. L'idea è stata quella di dargli un taglio tecnico, un tavolo di lavoro nel quale si possa aprire una discussione e fare delle riflessioni che possano anche essere portate e proposte al tavolo dei parlamentari e quindi del governo. All'incontro hanno preso parte oltre ai sindaci del territorio e rappresentanti politici anche importanti relatori tra cui il professor Romano Ru che ha parlato del significato delle province nell'architettura costituzionale. La provincia è un ente territoriale costitutivo della Repubblica e finalmente sta tornando al centro dell'attenzione pubblica e della considerazione del legislatore perché questo ente merita di tornare ad essere un ente rappresentativo di primo grado e di poter svolgere in maniera più compiuta e direi in maniera più attenta e anche sostanziosa le funzioni fondamentali che la Costituzione e la legge le attribuiscono. Mi sembra che attualmente in Parlamento sia pendente una proposta di revisione della legge del Rio quindi una riforma della riforma in senso di ammettamento opposto e da quello che ho capito c'è un largo sostegno bipartisan e pare che l'intenzione sia quella di riuscire a intavolare a mettere in atto l'elezione diretta dei consigli provinciali e del Presidente della provincia per il prossimo anno.